Dice l'imam, vogliono tutti sentirlo pronunciare, scusate questo ovviamente è il pezzo che precede le domande, vogliono tutti sentirlo pronunciare quella condanna senza se e senza ma della carneficina. E lui risponde, come si fa a non condannare? Il mondo deve essere unito nella lotta a questo cancro. Noi siamo prima di tutto cittadini italiani ed europei di fede islamica. Non facciamo il gioco dei terroristi alzando muri tra musulmani e non. Dice anche abbiamo fatto tanta strada per quanto riguarda l'Ukoi, soprattutto a livello locale, ancora a livello nazionale, ovviamente strada di dialogo si sta parlando, a livello nazionale c'è ancora molto da fare. E poi aggiunge, non si può pretendere, è vero che molti, si sta riferendo a musulmani, anche in questo caso magari fiorentini, è vero che molti sono stanchi di sentirsi addossare la responsabilità di gesti di altri. Non si può pretendere che gli islamici chiedano scusa per le stragi. Qualcuno mi chiede, io che centro con quanto accaduto a Parigi? In effetti Vescovi, lei non è il solo a pretendere una condanna netta. A volte mi viene in mente, è come quando, non so, una strage di mafia e io in quanto italiana devo chiedere scusa. Forse è meglio non confondere. No, non è proprio così. Allora, non facciamo queste cose. Io ho visto, proprio in questi giorni, un nostro militante, anzi un nostro quadro, ha fatto un piccolo errore e io ho condannato l'episodio. Ma perché? Perché sono responsabile regionale della Lega Nord, dico se qualcuno sbaglia, perlomeno dico sì, ha sbagliato. Ecco, è vero che non si devono confondere, però anche loro giocano in un discorso di battaglia per Allah. Allora, vediamo un attimino di dire, bene, noi siamo diversi da loro, almeno la comunità lo capisce. Anch'io posso dire, questa persona che ha sbagliato, non sono io, però comunque faccio parte di una comunità, lui è un militante, di conseguenza noi preferiamo così. Vediamo però che alcuni di loro non condannano, basta vedere anche cosa è successo l'altra sera a Rete4, in altre trasmissioni, loro non condannano. Addirittura abbiamo delle interviste che dicono, beh, se lo fanno in nome di Allah, registrate via su canali anche nazionali, di conseguenza questo ci preoccupa, questo ci preoccupa molto, per riuscire a capire, se come penso anche io, magari sicuramente c'è una differenza, non sono tutti uguali, ci mancherebbe altro, ci sono delle persone onestissime, delle persone valide, delle persone che si merito l'uguaglianza rispetto a noi, ci sono altre delle persone che devono essere messe in galera e buttate via le chiavi, ecco, riusciamo a distinguere tra l'uno e l'altro.